Allora Ari, è finita al Cardiopalmo questa partita, 68 Uwork-Farenza, 67 Umbertide. Questa squadra ci fa molto soffrire, tu da ex come l'hai vissuta? Conosco l'allenatore e so che vuole molta intensità in campo. Loro sono una squadra molto unita, conosco alcune giocatrici tipo Giudice che per me è un'ottima giocatrice. Ci mettono sempre il cuore, giocano molto di squadra e infatti si vedono i risultati. Infatti ci hanno creato un sacco di difficoltà alternando tante difese, molto aggressive. Abbiamo avuto pochi falli a favore purtroppo, però alla fine il carattere della nostra squadra ha prevalso. Quindi secondo me, nonostante tutto, è stata una partita veramente durissima, però l'abbiamo portata a casa. Sì, abbiamo portato a casa due punti molto importanti, anche perché all'andata avevamo perso. Peccato non aver ribaltato... Eh, non aver ribaltato la differenza punti, però dai, almeno abbiamo vinto e sono comunque due punti comodi. Andiamo ad Ariano Irpino con un altro spirito. Assolutamente, assolutamente. Grazie mille Ari, ciao. Ciao.